Buonasera cari amici, siamo qui a Pizza Expo Salerno 2014, un evento nazionale di grande rilievo in cui i pittoriani campionano in Italia, nelle 20 regioni italiane, si sfidano a compi di eccellenza con l'alimento più buono, più generoso, più genuino della tradizione italiana, la pizza e siamo qui con i rappresentanti della squadra Calabra. Anche la Calabra ha una grande tradizione di pizza? Tu come ti chiami? Io andai a zero. E qual è la vostra peculiarità, la pizza tipica? Allora, noi abbiamo costato la Calabra, la pizza tipica, abbiamo costato l'eccellenza, la curia calabresca, è un misto noiale, macinato, spalmabile, tre tipi di peperoncino piccato. E lo spalmate sulla pizza? Sulla pizza, sì. E anche l'impasto, la particolarità della pizza? L'impasto ha anche una particolarità, è una calca esaltruzione, perché di questa storia è una calca, buonissima, ingeribile. Non ci resta che assaggiare. Non ci resta che assaggiare. Grazie. Grazie.